L'Olde dei Medici ha aperto un procedimento disciplinare che in realtà risale alla campagna elettorale del 2016 perché in quelle occasioni, ma come tantissime altre volte prima negli ultimi dieci anni, ho utilizzato e esposto queste scatole dell'R2-486 per sollecitare la politica, la sanità, ma anche l'Olde dei Medici ad occuparsi del 194, dell'aborto e dell'aborto farmacologico. Noi abbiamo introdotto questo farmaco con vent'anni di ritardo, dopo dieci anni di polemica, in cui mi sono impegnato in tutte le salse, accusarmi di fare pubblicità all'aborto è ridicolo. Al farmaco ancora di più, perché è un farmaco di uso ospedaliero che non è a disposizione del pubblico, ma solo di chi si occupa di aborti volontari e spontanei. Io aspetto fiducioso, è chiaro che qui siamo di fronte a un ordine che ha un regolamento, un codice ontologico datato, anche se è fatto recentemente, in cui il decoro della professione 24 ore è considerato in modo estensivo, è un po' così strumentale. In questo caso la strumentalità è che l'esposto l'hanno fatto esponenti antiabortisti ed è chiara la volontà politica di colpire me e di colpire l'aborto, l'aborto farmacologico, l'RU486, queste scatole insomma. Ma io credo che l'Olde si è mostrato per un aspetto burocratico, peraltro c'è stato anche un invito del Ministero di occuparsi della questione. So che la Commissione nazionale per la pubblicità ha archiviato la questione, non ha nemmeno preso in considerazione. Credo che l'aspetto burocratico si possa risolvere semplicemente con una soluzione. Poi vedremo cosa capita. Presumo che il 5 maggio davanti all'Olde ci sarà una manifestazione di persone in solidarietà con me, di donne, di militanti, di persone perché il tema riguarda la 194. E in particolare quest'anno che è il 40 annale, e noi in Italia su questi temi abbiamo sempre un ritardo, una certa ritrosia in occuparsene, è considerato un tema minore di cui la politica e la sanità non se ne occupano, sempre legato gli aborti ai margini. Polemizzando magari sull'obiezione di coscienza, che se c'è è un problema ma non è quello determinante. L'aspetto determinante è la non volontà di occuparsi degli aborti come ci si occupa di tutti gli altri aspetti della sanità, nonostante una donna su quattro entra in questo ospedale per una questione abortiva o volontaria o spontanea. Tre quarti per un aborto volontario, un quarto purtroppo per un aborto spontaneo.